Con Paolo Indiani la vigilia della partita con il Seravezza. Vorrei partire da convitto, mister, che ieri ha lasciato l'allenamento anzitempo. Le chiedo in che condizioni si trova il giocatore? Ma che stamani è fatto forzale. Chiaro, siamo stati attenti, non abbiamo rischiato niente per vedere le prossime 24 ore. Si vede domani se è a disposizione oppure no. Per il resto tutti disponibili, credo ci sarà qualche problemino di abbondanza, ma si dice che sono falsi problemi questi, no? È d'accordo? Credo sia una delle poche volte, se non l'unica forse. No, bisogna vedere un vitto, perché se no anche stavolta non siamo organi in completo. È abbondanza. Se vuoi vincere un campionato, o tentare di vincere, o lottare per vincerlo, o programmarlo per vincerlo, per forza ci deve essere abbondanza. Con 12 giocatori di solito non si vincano più mai. L'arizzo va a giocare contro un'esseravezza che non perde da otto giornate, ha il capo cannoniere del torneo. È una squadra in fiducia in questo momento, no, mister? Dalle immagini che avrà avvisionato, che sensazioni ha avuto su questo avversario? Dobbiamente, questo è il punto. La squadra, abbiamo visto l'ultime 7-8, sarebbe prima in classifica addirittura. No, no, da quando è cambiato allenatore, anzi, anche prima, perché fu esonerato il precedente dopo una vittoria, credo, contro la San Giovandese. E sono fiducia a una cosa strana, che hanno fatto quattro vittorie, tre pareggi, la nuova gestione, di cui tre pareggi tutti in casa. E hanno vinto tutte le partite fuori. Però questo, non so fino a che punto può essere indietro, sicuramente la cosa sicura è che sono fiducia, hanno il capo cannoniere del campionato e hanno qualità, hanno qualità, hanno una buonissima squadra. Che cosa ha chiesto alla squadra, cosa chiederà alla squadra in questa partita, mister? Anche perché il ricordo di Terranova è ancora abbastanza fresco, anche se poi c'è stata la vittoria con la Flaminio. Non credo, le condizioni sono diverse. Le condizioni sono diverse. Un nostro errore di Terranova, se ora si può dire a distanza di 15 giorni, è aver pensato che il terreno era gioabile. Cioè che il fondo, come ci avevano detto, la falsa notizia, domani in sintesi il discorso cambia tutto. Però, dubbiamente, il ricordo c'è e va tenuto a te sempre presente. Ma che ho detto di continuare, spero che quella di domenica sia stata a 13 giornate alla fine, però si è già detto troppe volte. Però quella di domenica ha un certo senso nuovo rispetto alle precedenti, ce l'ha avuta. Cioè una maggiore, credo, attenzione a tutto quello che non è esclusivamente giocare. Ecco, noi fino all'ora siamo stati bravi a giocare, quando c'erano le ondizioni per giocare, molto meno quando non c'erano. Domenica invece abbiamo fatto una mezza strada e domenica, ecco, credo che ci abbia insegnato, se vuoi veramente arrivare, va su questa falsa riga. Io credo che il messaggio sia questo. Le chiedo le condizioni anche di Arduini, di Damiani, per esempio, che sono 2.2003, se sono già in condizioni, anche di Persichini, ecco, se potrebbero essere pronti per giocare dall'inizio, se hanno bisogno ancora di un po' di tempo, misto. Ma abbiamo organizzato apposta la partita giovedì, anche se l'input è venuto da loro, con il gubbio proprio questo motivo, per dare un minutaggio a giocatori che non avevano bisogno nel tanto tempo e che non fanno la partita. Ecco, per esempio, sta molto importante averla fatta perché i 60 minuti che ha fatto Damiani sono stati indiativi, ecco, ci sembra che ci abbia detto ci siamo, ci sono, cosa che le settimane precedenti assolutamente no. Il discorso anche degli altri è lo stesso, è lo stesso. Purtroppo, i mercati a gennaio, ora Damiani è chiaro, è un caso a parte perché lì è dopo un infortunio importante, ma gli altri vieni a gennaio, nei posti precedenti, giocavano, non giocavano, arrivi qui e come fai a dare continuità? Non è facile, è un motivo per cui volevamo andare in Coppa, avanti in Coppa, era per questo motivo fondamentale, perché dai minutaggio a chi gioca in un campionato e te lo ritrovi pronto e ne ha bisogno un campionato. E la partita giovedì sta importante per questo.